Piglia la Puglia! Eccoci qua, come al solito cominciamo la terza parte di Piglia la Puglia con la tavola delle cose buone, solo che oggi le tavole sono più di una perché tantissimi sono i prodotti che hanno portato sia i ragazzi di Guagnano che quelli di Gallipoli. Cominciamo da Gallipoli e dalla nostra Antonella che ci racconta di queste squisitezze, ovvero? Qua abbiamo portato scampi e gamberi, qua un bel piatto di scorfani e totani, qua c'è il pesce azzurro. Il pesce azzurro va consumato continuamente perché fa benissimo, però io vedo qui anche delle polpettine molto invitanti, sono polpettine di? Di polpo. Ma dai, polpettine di polpo! Le polpettine di polpo sono fatte tritando il polpo, mettendo sale, pepe e pane grattugiato e anche un po' d'aglio. E poi campeggiano sulla tavola anche due recipienti con dentro proprio il biglietto da visita gastronomico di Gallipoli, ovvero? La scapece. La scapece è una ricetta tipica di Gallipoli ed è preparata dagli scapaciari, friggendo i vopigli e poi si mettono in una tina di legno e poi di sopra si condiscono con aceto, pane grattugiato e zafferano. Sentite, questa bambina è bravissima, fatele un applauso e io da Gallipoli mi sposto a Guagnano perché anche Guagnano ha dei begli assi nella manica. Sto andando a Guagnano, a Guagnano. Oro di la terra mia L'aulia è poi racchiuto nel vero tesoro, cascine lisce e biondo come l'oro. Noi lo usiamo come ricco condimento, ma per l'intichi era medicamento. Insomma, niente di te la stiamo stare, che tutti noi possiamo utilizzare. Cari signori, questa è l'aulia, vero tesoro di la terra mia. Che meraviglia, abbiamo cominciato la tavola delle cose buone di Guagnano con questa bellissima poesia recitata dalla nostra Barbara perché l'istituto comprensivo di Guagnano pur avendo portato oggi qui una tavola stracolma di cose buonissime che adesso andiamo a mostrarvi e che raccontano nel modo migliore la terra d'Arneo che è appunto composta dai territori di Guagnano, di Nardò, di Porto Cesario, di Salice, Salentino e di Veglie. Insomma, però loro oggi sono andati oltre e quindi oltre che farci vedere questi prodotti ci raccontano con delle poesie quello che è il vero patrimonio di questi territori, ovvero l'olio extravergine di oliva. E' molto bello che i bambini si impegnino anche ad imparare queste poesie. I prodotti qui sono variegati e sono tantissimi. Tra tanti facciamo vedere anche i legumi tra cui spicca la fava clucappotto, si dice così perché c'è ancora il guscio, giustamente è inverno, la fava pur si protegge dal freddo, mentre la fava estiva delle terre d'Arneo si chiama la favanetta, la fava spugliata, la fava senza l'uguscio. Ecco, si mangiano crude queste? No, non si mangiano crude. Allora, come abbiamo aperto e chiudiamo questa tavola delle cose buone di Guagnano? Ringraziamo tutti gli insegnanti che si sono dati da fare per portare queste squisitezze e chiudiamo con un'altra poesia. Come si intitola? Ode all'aulia. Ebbene, è più chiaro di così. Ode all'oliva. Ode all'aulia. Aulia! Ci teni aulia! E' così di tanto fiato un cristiano che girà per le strade di Guagnano. Ti danno quanto tempo è passato e il mondo meno semplice è dintato. Però l'aulia è in tavola. Ancora gli usiamo. E con lui io riseggio insalata con il samu. La pizza rustica con l'aulia alla menza sa preparare. E li pucce. Senza l'aulia non si può ne fare. Rizze mature, rinuto o alla consa. Che mangiata! Su questi li sapori di una fiata! E che ne vuoi dire? Straordinari complimenti a Guagnano che veramente ci ha fatto non solo vedere delle cose buonissime ma ci ha fatto anche ascoltare un dialetto di una rara bellezza e musicalità. Io sono felice. Questa è una delle più belle puntate di Piglia la Puglia. Speriamo che continui così perché adesso abbiamo il collegamento con le cucine della masseria Le Stanzie dove vedremo all'opera i nostri chef con le ricette facili facili. A te la linea Ilaria. Eccoci qua e dalle cucine della masseria Le Stanzie ancora una volta insieme per raccontarvi una ricetta davvero molto semplice. In compagnia di Simone rappresentante della scuola di Gallipoli. Benvenuto e complimenti soprattutto per questa divisa davvero chef! Dai Simone raccontiamo allora com'è facile fare appunto le linguine con i ricci. Allora in una pentola come questa si mette l'olio con l'aglio e si fa fumare. Poi quando diventa dorato si toglie e si mette la polpa di ricci. Poi si scola le linguine e si mettono con la polpa di ricci. E si spadellano diciamo così. Per poi alla fine impiattarla e riempirla di prezzemolo. Perfetto Simone sei davvero un grande chef ma adesso diciamo così dal primo io passo direttamente al dolce e vado a vedere che cosa hanno combinato la scuola di Guagnano. Vado! Eccoci qua come vi dicevo i ragazzi di Guagnano ci hanno preparato un ottimo dolce. Giorgio esattamente cosa? Bucce d'arancia, candite il cioccolato. Meraviglioso. Gli ingredienti? Allora un'arancia con la buccia spessa, possibilmente non trattata. 100 grammi di zucchero. Acqua quanto basta. 200 grammi di cioccolato fondente. Ecco giusto giusto per la mia linea. Da questa parte invece c'è Chiara, ricetta facile facile. Come si prepara? Tagliamo l'arancia a spicchi in senso verticale. Da ogni spicchio ricaviamo delle sessioline larghe un centimetro e le ricopriamo di acqua. Portare a bollore per circa 5 minuti. Scolare per eliminare l'acqua marognola. Ricoprire nuovamente con acqua fresca, aggiungere lo zucchero e far bollire per 15 minuti. Ripetere l'operazione per 3 giorni perché devono riposare nel liquido per 3 notti. Rimettere le sessioline di buccia d'arancia per l'ultima volta sul fuoco, sempre nel liquido iniziale, fino a che questo non si sorrisce completamente e le bucce non diventano appiccicose. Stenderle ad una ad una su una griglia per far sgocciolare il liquido in eccesso. Dopo qualche giorno si soglia bagnomaria e il cioccolato e si immergano le bucce ad una ad una per metà, tenendole tra il pollice e l'indice. Si tolgono e si appoggiano su carta da forno o su carta stagnola, fino a che non si induriscono. Eccoli qua i nostri piatti, ma non sono due, sono tre, ovvero il piatto della casa, insieme a Rosanna, velocemente, Ciceri e Tria. Allora, si mettono a bagno i ceci la sera prima, poi si prepara la sfoglia fresca, poi si cuociono normalmente i legumi e poi si prepara a parte i ceci con un pomodorino, la Tria sbollentata e la salta in due minuti. Benissimo! Un po' di pepe e poi sopra la Tria soffritta. Insomma, noi ce la mangiamo, ci fidiamo, questo è davvero tutto dalle cucine della Masseria, le stanzie a te la linea Antonio e a me l'acquolina. Bravi, 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 veramente bravi, ai nostri chef in erba sono stati straordinari, quelle bucce d'arancia col cioccolato ricoperto. Dica la verità, non le è venuta l'acquolina in bocca? Certo! È certo, ha ragione Francesca, e a lei Simone? Ovvio! È ovvio quei spaghetti coi ricci, è vero? Sì. I ricci, lei mangia gli spaghetti coi ricci o anche lisci di solito? Solo, solo coi ricci? Sì! Mi piace Simone perché lì da tutte le pecerie che dico. Mi dà gioia, mi dà coraggio, bravo, dobbiamo fare coppie insieme, lei mi dà proprio l'energia giusta. Quella che serve a voi adesso però per l'ultimo gioco in programma, che il gioco naturalmente dè o la va o la spacca. Grazie! Grazie! Grazie!